Allora, buongiorno a tutti quanti! Siamo qui con Samuelino. E allora, Samuele voleva divertirsi e siamo qui alla lezione del progetto Primo Piano e lui vuole forse premere qualche pulsante per sentire della musica? Prova! Quale vuoi prendere? Ma prima... certo! Vai! Lui come si dice? E allora, lui si diverte a sentire la musica della demo e poi gli cambia i suoni. Perché la demo per ogni suono ha una musica diversa. Ok, Samuele. Perciò, adesso invece premi ancora demo e la fermiamo. Bravo! Fermo così, non la toccare più. Fermo! Allora, poco fa ci siamo divertiti a suonare i TA. Me li suoni solo dei TA, per favore? Per fare bene i TA rimetti il suono del pianoforte. Se corri diventano dei Titti. E ti ricordi di come si fanno i Titti? Vediamo, lo sai fare? Prova! Una mano fa Titti, l'altra mano fa Titti, l'altra mano fa Titti. Vediamo... ah, l'altra mano bellissimo, saluto a tutti quanti ciao, questo era Samuele, un birbacchione progetto primo piano 2017, ciao ok, sempre il 10 gennaio aspetta, aspetta, non suonare sempre il 10 gennaio Samuele ha chiesto al maestro di che deve fare pipì allora corri, corri forza, tu che sei grande corri, ora lo riprendiamo dopo la pipì, ciao ciao eccolo, eccolo qui, allora poco fa ci abbiamo provato, ora dopo essere stato in bagno che lui ha fatto la pipì proviamo a suonare il leone guarda la tastiera, non guardare a me e fagli fare un ruggito lungo col pianoforte, non con la voce lungo, tienilo per tanto tempo forte molto bene, se vuoi con leone hai finito e quali erano gli altri animali? gli uccellini, vai troppo carini, ancora, ancora, sono troppo carini, falli saltellare questi uccellini Automutazione molto bene torniamo al leone, fai un leone super paccello fallo camminare E non cammina, ma va fatto solo tre passi, fallo camminare Non salire troppo, sennò poi diventa un gattino, non resta più un leone Perché non provi a fare, aiuto mi cade tutto, perché non provi a fare Anche l'altra mano Oh, questo è un leone che cammina E degli uccellini, vediamo ancora, facciamogli fare qualcosa di diverso Degli uccellini che corrono, corrono, con tante dita, tante dita Bravissimo, così Benissimo, vuoi dire ciao? Ciao E che bello, arrivederci, questo era Samuele, bravissima Samuele, ciao ciao Ciao